Siamo qui con Paola Gambaro, docente di design dell'Università di Genova, perché due tesisti del corso di disegno industriale dell'Università di Genova hanno avuto un'idea rivoluzionaria, hanno inventato la ruota. È così? La ruota d'acqua possiamo dire, appunto sempre nella logica di offrire delle risposte per una realtà che ha difficoltà nel trasporto dell'acqua, nella reperibilità dell'acqua, quale sono le realtà di alcuni paesi del sud del mondo. Questi ragazzi hanno elaborato, per l'attesi di laurea in design di qualche anno fa, un'idea realizzando una tanica che si inserisse all'interno di un copertone di macchina. Unendo due aspetti, quindi, quello del riuso di copertoni che spesso, ad esempio in Africa, ma anche in altre realtà, vengono abbandonati lungo le strade, quando ormai la macchina non si usa più o si è rotta la ruota, e una tanica che si potesse inserire all'interno della ruota, quindi riducendo lo sforzo di trasporto da parte dell'uomo. E l'hanno chiamata rototanica, diciamo i nomi. Giusto, i ragazzi sono Francesco Anderlini e Stefano Giunta. E a questo punto vediamo anche l'oggetto, perché possiamo anche vederlo in azione. Allora, qui abbiamo la ruota, naturalmente nella versione poi in loco non ci sarà l'innaffiatoio. No, penso che però in loco possibilità di trasferimento dell'acqua o con contenitori e particolari imbuti, magari anche realizzati un po' sul momento. Ecco, una volta che è stata caricata la ruota... Si usa un manubrio... che può essere inserito, che va inserito nel centro della ruota e che ha alcuni accorgimenti, in modo che questa non possa sfuggire. Ha una parte più in alto, questa maniglione, è una maniglia molto semplice che consente appunto di trainarla o spingerla. Si, con tutti gli ovvi vantaggi, quindi anche se il terreno è un po'... Anzi, appunto, l'importante è proprio questa risposta, non solo di un'idea di riuso, che poi forse non sempre è facile applicare, nel senso che poi ci vuole una standardizzazione dei formati, altrimenti la cosa si complica, però sicuramente il copertone in sé dà una risposta molto efficace anche per l'uso su terreni accidentati, quindi non ben assestati. E anche la plastica è riciclata? La plastica può essere riciclata, può far parte di un sistema di riciclo come invece essere realizzata ad hoc. E poi leggevamo che in un modello futuro, diciamo, si prevede anche di realizzare una concavità della tannica in modo che possa... Gli accorgimenti poi che via via il percorso di approfondimento a seguito della tesi sono stati fatti dai ragazzi, proprio in vista di una produzione, ha previsto anche di applicare una forma particolare alla tannica in modo che possa essere facilmente trasferita o appilata, quindi introducendo delle concavità sui lati, o appilata giusto per costruire un deposito facilmente organizzato, o addirittura portata in testa come in molti contesti è ancora in uso quello di un trasferimento. Quindi ci sia un aspetto pratico che un andare incontro alle tradizioni e questo per non urtare... Esatto, per non creare sempre una innovazione magari un po' forzata nelle abitudini. Grazie.